perché amo le cuciture nelle lavorazioni orizzontali le cuciture sono più semplici la maggior parte delle cuciture vengono effettuate proprio nel senso della lavorazione questa è una manica qua c'è il polso e ovviamente lavorandola in orizzontale così non in tondo ovviamente poi va cucita sotto e la cucitura sarà piuttosto semplice perché è nel senso della lavorazione abbiamo delle bellissime catenelle e quindi il risultato sarà bello e dall'odiare le cuciture sono arrivata quasi ad amarle o comunque a farle con attenzione cura perché poi il capo ne riceve sicuramente miglioramenti estetici un bel capo con delle brutte cuciture viene completamente rovinato che cosa però mi dà difficoltà la cucitura su il lato delle dei giri delle maglie no questa è così e questo andrà poi attaccato al corpo e quindi in questo lato per me è un po meno facile fare la cucitura ho provato vari metodi negli anni ne ho provate di tutte non mi hanno mai soddisfatto a pieno credo che ogni punto e ogni lavorazione poi richieda uno studio e una prova per quanto riguarda questo tipo di lavorazione io lo gestisco e lo gestite in questo in questo modo quindi sono arrivata ho fatto l'ultima mia riga questo abbiamo detto che il polso poi la cucire no però prima questo lato andrà cucito ai due rettangoli che uniremo sulla spalla del dietro e del davanti io l'ho gestito in questo modo faccio delle maglie basse su questo lato in questo caso in ogni giro vedete queste colonnine chiamiamole così ogni colonnina e un giro di andata e ritorno quindi io so che devo entrare diciamo nella colonnina e poi farne un'altra queste righe sono di maglie bassissime qua invece ci sono le maglie basse le maglie alte per quello che più largo però faccio lo stesso una sola maglia perché ho fatto delle prove e viene correttamente cerco di entrare nei buchi più stretti in modo tale che non si allarghi proprio non entro qua che magari potrebbe formare il buco ma preferisco questa parte qua dove il buco è un pochino più stretto ovviamente è una mia preferenza questa di fare le maglie basse e ve la condivido se a qualcuno può interessare ma chi è abituato a fare le cuciture in altro modo e li vengono bene soprattutto da valutare le cuciture fate con l'ago perché credo che vengano ancora meglio io non amo cucire con l'ago e quindi faccio tutto con l'uncinetto anche le cuciture e perché ne trovo piacere anche a fare le cuciture usando l'uncinetto altrimenti mi diventa diciamo un dovere un passaggio obbligato che però non mi dà piacere ed ecco fatto finito come potete vedere si nota poco la maglia bassa ma qua abbiamo poi delle belle catenelle delle belle maglie diciamo così per poter essere cucite quindi quando io abbinerò l'altra parte avrò maglia contro maglia e sarà semplice sia per il conteggio dei punti che proprio nel lavorare la cucitura a questo punto si può decidere se fare poi una cucitura vista quindi sul diritto del lavoro oppure una cucitura scomparsa cioè sul retro dove appunto lavorerò tutte e due le maglie e quindi poi non non si vedrà nulla quindi